Amici di Planet Spin, oggi una pescata alternativa allo spinning, proviamo la pesca al granchio blu insieme al nostro amico Edo, è il granchio! Venite con me, vi spiego come peschiamo, speriamo di divertirci e di fare anche qualche altra cattura. Andiamo! Amici di Planet Spin, oggi una pescata alternativa, invece dello spinning abbiamo innescato niente di meno che la coscia di pollo perché il nostro obiettivo di oggi è il granchio blu, siamo qui in uno spot dove ci dicono che è pieno di questi granchietti e noi ci proviamo, speriamo di divertirci, di fare qualche bella cattura. Praticamente la nostra attrezzatura è una semplice canna con alla fine del nostro terminale un pezzo di pollo direttamente legato vicino alla lenza madre e diciamo siamo molto più tecnici di altri pescatori del posto che lanciano direttamente con il filo a mano. In pratica l'azione di pesca è molto semplice, lanciamo la canna, lanciamo la nostra coscia di pollo, la facciamo scendere un po' e poi vediamo che a un certo punto ecco viene quasi strattonata come se fosse un pesce vero, però alla fine della nostra lenza troviamo nient'altro che un granchio. Oh mamma mia questo è grosso, vai indietro, vai indietro. Vai alza, 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 alza. Vai. Ecco il fegato, buca funziona. Sì, sì. Questa è il plasticetto. Abbiamo fatto già qualche cattura, non ci possiamo lamentare, siamo stati giusto un quarto d'ora e la nostra pescata per il momento sta andando bene, ci stiamo divertendo. Dimmi che non vedo. Vai ancora dietro. Vai ancora dietro. Vai, vai, vai. Ancora, 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 ancora. Vabbè, ma lo scopo è di dire di qua anche di fare il video. Ti piaceva il po' là? Ah, stanno. Aspetta, piano piano, piano piano. Ma ci sta? Eccomo, non ci sta. Bene. Sono più semplice. Si è stata di una pesca molto divertente e niente, per il momento abbiamo fatto qualche cattura, ci siamo ancora qualche minuto qui in pesca e dopo ci divertiremo anche tra i fornelli. Vediamo anche di assaggiare questi granchi blu che vanno per nomea per avere un sapore prelibato. Lo scopriremo insieme. E' bello, questo è un bel pesco. E' un bel pesco. Che l'abbiamo fatto? È l'acqua. È il granchetto fuggiasco. È bello. È lui? È il granchietto blu? Ce l'abbiamo? ce l'abbiamo fatta, è un bel granchietto, è venuto a pizzicare due tre volte e finalmente è arrivato a presto per il momento è tutto amici di planet spin, spero che il video vi sia piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti alla prossima ragazzi, ciao al prossimo video